Papà, che succede? Marzia, apri la porta! Chi è? Non puoi tenermi in chiudanza! Vieni con me! Basta! Marzia, fatemi uscire subito! Fatemi uscire di qui! Avete chiuso il testo qui dentro? Abbiamo dovuto farlo. Ma siete impazziti! Voi siete completamente fuori di testa! Questa che mi prende il cellulare, questo che mi chiude dentro... Dammi il cellulare, subito! No, no, dammelo! No, Basta! Io vi denuncio per sequestro di persona! Ma mi volete spiegare? Ha sentito una cosa che non doveva! Cosa? Che Alessandro è buono! Ma tanto buono, eh! Incredibilmente buono! Talmente buono che ha preso per il culo mio padre finora! Lui non voleva distruggere Villalba! Vuole salvarla! È un po' di pasture! Grazie.